E' di 18 milioni di euro la stima dei danni provocati dal violento nubifraggio di venerdì scorso nel territorio di Sciacca. 3 milioni di euro la somma necessaria a superare l'emergenza, che significa il ripristino del manto stradale, delle opere d'arte danneggiate, gli interventi di rimozione di fango e detriti, la pulizia delle strade e dei canali, il ripristino degli impianti. L'amministrazione comunale ha già trasmesso ieri mattina alla presidenza della regione la relazione chiesta dal governatore Crocetta per poter avviare le procedure necessarie poi alla dichiarazione dello stato di calamità e stanziare i finanziamenti necessari. La cifra non è relativa unicamente ai danni, ma comprende anche delle opere di messa in sicurezza del territorio, soprattutto nella zona del Can Salamone, per evitare che possano ripetersi analoghi problemi. Si tratta ovviamente di una stima provvisoria, basti pensare che ammontano a 5 milioni di euro solamente i danni riportati dal Verdura Golf Resort. Il Comune di Sciacca intanto ha provveduto ad istituire un apposito ufficio e un numero telefonico al quale possono fare riferimento cittadini, commercianti e artigiani che hanno subito danni. Il numero di telefono è 348 222 3447. I privati dovranno segnalare i danni subiti e un tecnico comunale andrà poi ad effettuare le necessarie verifiche. Stessa procedura per agricoltori e elevatori che dovranno fare riferimento in questo caso all'unità operativa ex condotta agraria per comunicare i danni riportati dalle loro aziende. Sarà poi l'ufficio recepite tutte le segnalazioni e fatte le verifiche ad avanzare alla richiesta alla regione finalizzata al risarcimento danni. Si sta ancora lavorando inoltre alla rimozione di fango e detriti e sono tre le ditte alle quali ha fatto ricorso l'amministrazione comunale per questi interventi. Segnalazioni e richieste arrivano da varie zone della città. In Contrada Foggia le canne trasportate dalla piena hanno ostruito il vallone San Marco e l'acqua trova libero del flusso nel poco spazio libero che si vede sul lato sinistro dell'alveo del torrente. Se non viene pulito in tempo un'eventuale nuova forte pioggia potrebbe far innalzare il livello dell'acqua generando rischi di esondazione e allagamenti delle abitazioni. E' questa la preoccupazione dei residenti che chiedono ovviamente che venga programmato anche in quella zona un intervento di pulizia. Le segnalazioni e le richieste non si contano e ci vorranno ancora diversi giorni per riuscire a soddisfarle. Infine la situazione delle scuole oggi ancora chiuse e su disposizione dell'amministrazione comunale per effettuare una ricognizione ed escludere situazioni di pericolo. Da questa mattina i tecnici del comune hanno effettuato una serie di sopralluoghi che ad eccezione del plesso a gazzi non hanno fatto emergere particolari criticità. Il plesso a gazzi era già chiuso dalla scorsa settimana per infiltrazioni di acqua piovana. Il nubifraggio di venerdì scorso ha fatto il resto. La scuola è al momento inagibile e rimarrà chiusa fino a giovedì prossimo. Il problema delle infiltrazioni, ha dichiarato l'assessore Caracappa che stamattina ha partecipato al sopralluogo, non è stato superato dall'intervento effettuato la scorsa settimana prima ancora del violento temporale. Secondo quanto accertato dai tecnici è necessaria la posa di una guaina bituminosa nel tetto che eviti le infiltrazioni per una spesa che si aggira sui 5 mila euro. Si sta valutando la disponibilità della somma per effettuare l'intervento. Intanto anche i due seggi elettorali del plesso a gazzi saranno spostati per il referendum di domenica nella vicina scuola elementare di via Brigadier Anastasi. Ad eccezione della gazzi, le altre scuole non presentano invece criticità tali da richiedere provvedimenti di interdizione. Da domani dunque si tornerà a far lezione regolarmente. Dei piccoli interventi dovranno comunque essere effettuati perché in alcune scuole, durante il violento temporale di venerdì, si sono comunque registrati dei problemi. Le immagini che state vedendo si riferiscono alla scuola media Ignazio Scaturro di via Santa Caterina. Le infiltrazioni di acqua pare siano dovute anche alla mancata pulizia di grondai e caditoie che andrebbe effettuata prima della stagione delle piogge in tutti gli edifici scolastici.